...quadra 100 spese A, al secondo posto, abbiamo restato 83, squadra A, con 71, 150. Al terzo posto, Civita Vecchia, punti 70 e 400, queste sono le squadre che si guardano all'accesso alla finale. Bene, adesso prego le squadre, vi faccio un saluto, dovrete premiare il posto dove siete. E abbiamo al quarto posto, San Michele A, il punto 68 e 600. Abbiamo poi a seguire il quinto posto, Dinastica Artistica Laila, 68 e 500. Al sesto posto, Alfonso Casante A, 67 e 450. Al settimo posto, Sport Sardinia, 66 e 800. Al ottavo posto, Ginastica Joy, 66 e 450. E al nono posto, Ginastica Laila, 65 e 400. Decima, giustificata di questo turno, Chieto Sportivo Pollate, 65 e 350. Undicesima, compresiuto 1.265, Stio, 63 e 900. dodicesima, veneniamoci, 65 e 500 e 63 e 50. Tredicesima, Prio G, Sergine, 59 e 200. Quattordicesima, un inizio, 49 e 400. Un applauso a tutti le squadre. Bene, allora, adesso proseguiamo in questo modo. Facciamo la foto al posto.